Proseguiamo invece se la camera mi segue con i primi commenti a caldo della giuria. Presidente Giulia Maggio, allora i primi... Microfono, voce, uno, due, tre, prova, sì. Buonasera a tutti innanzitutto. Allora Giulia, i primi commenti a caldo di questa prima parte. Allora, innanzitutto io vorrei spezzare una lancia a favore di tutti questi artisti. Eh, abbiamo fatto tanta tanta fatica a poter fare il Selezione. Siete tutti dei grandissimi artisti. Poi avete anche degli inediti, non sono delle cover. Quindi c'è aspirazione pura, cioè veramente bravi. Dai testi alla musica, anche diciamo la presenza scenica. Ho visto anche tanti ballerini che si sono esibiti. Quindi veramente, cioè da brani che con tanta leggerezza però portavano delle tematiche importanti e dei brani invece che appunto rappresentavano la guerra, i bambini. È un periodo un po' particolare che stiamo vivendo. Per cui... Qualcuno che non c'è più. Io sinceramente giudico questi artisti al livello superiore dell'Ariston. Ah, grazie. Grazie. Poi, detto da te, c'è da crederci, insomma, per tutta la tua attività artistica, organizzatrice di eventi, eccetera, eccetera. Adesso passiamo il microfono un attimo a Elisa Barone e dobbiamo fare in fretta perché voglio sentire un pochettino tutti quanti. Quindi microfono a Elisa, poi sentiamo Roberto. Grazie. Beh, io non posso che naturalmente confermare le parole di Giulia. in più aggiungo sempre, io per me, non lo so, guarda, è una cosa importantissima, una cosa a cui non riesco a credere perché... ma non perché non ci credo, perché è una cosa, boh, così eteria, così... questa sinergia che si crea anche fra ragazzi tutti, questa complicità direi quasi fra loro, no? ehm, tante nuove collaborazioni che nascono, insomma, un'atmosfera che poi per me quest'anno è stata una proprio, ehm, una bella ventata di aria pura e fresca, tu lo sai, ehm, io ringrazio tutti i ragazzi, naturalmente, quelli che conosco ormai da quattro anni, ehm, i nuovi che sono sempre tutti, ehm, insomma, sì, sì, mi muovo, sì, ehm, che dire, non lo so, io ho già detto a loro tutto stamattina, eh, passo la parola a Roberto, se no, il boss qua, insomma, mi rimprovera, mi rimprovera, mi rimprovera. Va bene, allora, eh, il microfono a Roberto Castellucci, Roberto anche per te. Allora, intanto grazie Maurizio, questo è il quarto anno in cui faccio il giurato al Premio Lociotallo e per il quarto anno consecutivo vedo, un livello molto alto tra gli artisti che si sono susseguiti durante le semifinali. Eh, come hanno detto anche le colleghe, è stato difficile fare questa scelta. Eh, è stato talmente difficile che abbiamo dovuto aumentare pure il numero dei finalisti rispetto agli anni scorsi, perché c'erano diversi esecuoli, quindi abbiamo fatto proprio un, uno strappo alla regola in via del tutto eccezionale. Va bene, allora, sentiamo un attimo il parere di Gianluca Magni, attore. Salve. Allora, ehm, ho sentito delle buone voci. Eh, nelle persone meno giovani, perché gli artisti hanno un'età, non anima, non si dice vecchi meno giovani, ho visto trasporto, emozione, voglia di essere sul palco. Nelle persone più giovani che si giocano una grande occasione, siamo al premio Lucio Dalla, eh, potrebbero essere visti, ho visto, ho sentito delle belle voci, ma a Napoli si dice la cazzimma, no? Quando sono sul palco, io sono un attore, i cantanti sono degli interpreti che cantano invece che parlare. Allora, voglio vedere l'occhio della tigre, voglio vedere il sangue, voglio vedere il trasporto, devono essere felici, contenti di essere lì, mi devono dimostrare che non hanno alternativa a che fare il cantante, non che a casa hanno un'alternativa, non lo devono trasmettere. Esattamente proprio così Gianluca, e sentiamo il parere anche della collega Sabrina Fardello. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, è la prima volta che vengo e sono rimasta veramente estasiata, devo dire, della qualità, veramente degli artisti straordinari, complimenti a tutti. Ma aspettavo, pensavo che era un concorso così mediocre, invece veramente bravi, complimenti. Grazie, grazie Sabrina. Allora, partiamo qui da questa parte, mi seguo alla telecamera, allora, con Angela Scroon. Allora, Angela, anche tu hai fatto parte della commissione interna. Sì, è la prima volta che io sono qui a questo premio, ho apprezzato molto l'energia con cui cantano, il cuore, proprio si sente che c'è il cuore, che c'è la passione, e questa secondo me è una cosa che arriva ed è molto bella da vedere e da sentire. Bella la qualità, sono d'accordo anche con quello che hanno detto gli altri colleghi, bravi, complimenti, sono molto contenta. Quindi tu rappresenti oggi qui Radio Montestella, in sostituzione del nostro caro collega Luca Corradini, che non è potuto venire e quindi mi ha chiesto appunto di poter essere sostituito da Angela Scroon. Adesso, grazie, un applauso, vi presento un altro grande personaggio, molto famoso in tutta Italia, Francesco Garofalo. Buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui stasera, ti ringrazio Maurizio perché mi sto divertendo tantissimo, sto sentendo veramente della buona musica e soprattutto sono contento appunto, come diceva prima l'altro giurato, che ci sono parecchi cantautori, quindi non stanno riproponendo canzoni già sentite, ma sono farinato il loro sacco, quindi veramente bravi, complimenti. Allora, passiamo pure il microfono a Omar Riafisco. Buonasera, ciao Maurizio. Io sono sempre entusiasta di far parte della giuria, tra i giovanissimi ce ne sono due che mi sono piaciuti in modo particolare, comunque sempre di buona qualità, la musica che proponi, sono sempre felice. Insomma, lo sai, oramai sono di casa, sono già un po' di anni che sono qui. Poi lui è eccezionale, io come finisco Sanremo, prende il telefono e mi chiama, oh guarda che ci sono anche quest'anno, immediatamente. Sempre con molto piacere. Lo so, caro. Allora, passiamo il microfono a Medeo Carrocci. Buonasera Maurizio, buonasera artisti, complimenti a tutti. Sì, i giovanissimi ci hanno impressionato, ma il tema è quello dell'amore, devo dire che l'amore non ha età, perché la compagine degli artisti è piuttosto ben rappresentata, quindi è bello anche questo. E poi mi rivolgo a te personalmente, insomma, sai che sono un musicista classico, ma sono un giurista, esperto in diritto d'autore. È bello, è bello per tutti, ma soprattutto per voi sapere che c'è un mentore in un momento in cui si contrabanda professionalità. C'è un mentore come Maurizio Meli, che ovviamente è in grado ogni anno di confermare le proprie competenze e di adunarci intorno a sé. Grazie quindi, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, grazie a Medeo Carrocci. E adesso Domenica Zamara, che anche lei è di casa. Domenica, due parole e poi ci fai sentire, ci delizierai con Medeo della tua interpretazione, Canola. Mi sento come in famiglia. Grazie per l'invito, Maurizio. Sei bravissimo che stai promuovendo grande l'arte, grandi giovani artisti, e artisti anche affermati, che cercano di fare primi passi qua. Bellissimo perché ogni voce è diversa, ogni voce trasmette emozioni diverse, ognuno di noi è individuale, è diverso, è questa meraviglia dell'arte. Ogni volta quando si sale su palcoscenico si sente diverse emozioni, ogni volta c'è catarsis. Oggi ho sentito qualcosa di speciale, sentendo specialmente uno dei artisti. Mi ha dato grandi emozioni, grazie. E adesso siamo, vieni qua con me. Adesso siamo pronti per la tua esibizione. Bene, veniamo.